Ma che filmi? Gli adepti? Siamo pochi. Faccio resa, se non c'è nessuno. Ma no, questo è Pandora Maria. Non sono fame. Non sono più che fame. Sono a letto più buone. Fabi! Ah, questo è? Piccola amore. Sì, ma viene pure il bagno. Sì, ma viene pure. 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 Ma facessi fuori se non ero celiaca. Questa è l'immacolata concezione arraito da Fabiolino nel 2009. Quella che avete visto era il 2008, ovviamente, perché siamo nel 2009. Come sbaglio? Nel 2009, tutta forza. Adesso ci sono i... come si chiamano Fabiolino? i chirighetti. I chirighetti? No, i chirighetti. No, i chirighetti. No, i chirighetti. No, i chirighetti. No, la strozzata, vabbè. I chirumei. I chirumei che anticipano la venuta della Madonna dell'Immacolata. No, delle grazie. che delle grazie. Ma mi chiede, c'è un megafono che va da sé, ripetendo... Che fate? Si butta giù. No, non lo fare! E' bellissimo, vuoi vedere. Ah! Stai, 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 stai! E vada, ecco, viene a stare in su. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un cano che lascia tutte quelle cose. Non c'è trucco, non c'è inganno. Ingani, infatti, noi gli ingani sono belli. Adesso buttano... Ma scusami, ma non lascia acceso quando passa lei? Non c'è inganno.